Voglio vedere crescere Gabriele, aveva confessato Eleonora Giorgi in una delle tante interviste rilasciate dopo l'annuncio della malattia. Una promessa che l'attrice sta mantenendo ogni giorno, dedicandosi contemporaneamente alle cure e al nipote Gabriele. Sempre sorridente e solare, l'attrice ha più volte dichiarato di trarre grande forza dalla vicinanza, con il nipote, fonte di gioia e di sentimenti positivi. Recentemente, la mamma Clizia in Corvaia ha immortalato un tenero momento tra nonna e nipote, condividendo il video subito dopo su Instagram. Amori, scrive l'ex geffina in sovrimpressione riferendosi all'attrice e al nipote, intenti a godersi un momento di gioco insieme, con i dinosauri. Nel video, l'attrice indossa una mascherina, per proteggersi da eventuali virus e batteri i quali, in questo momento di terapia, potrebbero rivelarsi troppo aggressivi per la sua salute già indebolita dalla malattia. Non sono mancati i commenti dei fan dell'attrice, i quali continuano a supportare Eleonora Giorgi nella sua più importante battaglia in cui, come sempre, dimostra grande forza e determinazione.